Devo credere in un mondo fuori dalla mia mente. Devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se non riesco a ricordarle. Devo convincermi che, anche se chiudo gli occhi, il mondo continua ad esserci. Allora, sono convinto o no, che il mondo continua ad esserci. C'è ancora? Sì. Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci rammentano chi siamo. Io non sono diverso. Allora, a che punto ero? Allora, a che punto ero?